Ciao a tutti ragazzi per lonti di questo video, come vedete qui che è il mio nome e ho cambiato il nome, infatti adesso farò degli specie di povinia. Io inizio subito perché anche se in partita mi dice che sono a 1.98 ma sicuramente ci vorrà un po' di tempo per farlo cambiare il nome, quindi io ho cambiato con 100 gemme, infatti ce l'ho solo 100 gemme, quindi le ho sprecate tutte. Ciao a tutti e i e i i i i e i i Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info si sto nel rino rano ma sto nel e biancci lo Scriviti al nostro canale Vediamo adesso cosa ci è, successivo, mezzo successivo, vabbè, cosa ci sta a scena, non sta proprio a tutto il mondo, è una regalino, è una regalatura, qua sta a scuola, scudo, pam, come, 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 come Bambi non moris, non moris non moris ah, vita ascoltate per me ok, vivo vivo non amare non amare adesso, viviamo non sei ciò a sopravvivere sopravvivi a sopravvivi a sopravvivi a sopravvivi ten roszki schudni da lomanta ciao 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 qui si no no, no, mam pum 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 come come stai 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 e stai 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 in stai stai leone mi scappato ma ecco dove sei dove sei che ammazzò che ammazzò che ammazzò 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 mi a mamma mi a mamma api mi a piare io biare da papà è partita quelle varie a volte a la a e e da a muov da muov ma passi vediamo ciò riscuterà ciò riscuterà alloiai io c'è qui non c'è mio mio ragazzo non lo io c'è un minuto non lo faccio non lo faccio ma c'è scendere la banane e abbiamo subito un altro gioco che giochi a casa prossima giacca ecco qua un classico si ok ok lo devo ammazzare chi ammazza capo e capo non 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 c'è un gioco